Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come andare a inserire all'interno di TeamSpeak salti chat per poterlo utilizzare poi come chat vocale all'interno di 5M. Come prima cosa dobbiamo andare a installare TeamSpeak, come molti di voi già sanno questo ci servirà per andare a parlare all'interno di GTA RP. Dunque allora andiamo sulla pagina di TeamSpeak, qui nel motore di ricerca cerchiamo TeamSpeak conviene scriverlo tutto attaccato e poi andiamo sulla pagina ufficiale. Allora vedete che qui praticamente abbiamo il free download, quindi andiamo subito a scaricarlo qui ci dice un po', ci chiede le caratteristiche del nostro computer e io in questo caso farò il client 64 bit e lo andiamo a scaricare e poi va installato come un normale programma. Andiamo ora a fare il secondo download che ci serve e quindi andremo a scaricare salti chat. Vedete che qui vi spiega che si tratta di un plugin per TeamSpeak 3. Allora questa è la pagina ufficiale, metterò poi il link in descrizione e dovete andare sotto e qui vedete che trovate il download. Anche qui dovete scaricarlo e poi sarà un download normale e quindi lo andate a scaricare. Una volta che l'abbiamo scaricato andiamo a recuperare appunto salti chat il plugin o meglio quello che abbiamo appena scaricato. Quindi andiamo a cliccarci sopra, doppio clic e vedete uscirà questa interfaccia. A questo punto lasciamo tutto come è così e dovete fare installa. Quindi cliccate sì e qui dice restato io TeamSpeak client sì. Ok, a questo punto lo facciamo fare e poi dobbiamo andare su TeamSpeak a lavorare. Entriamo su TeamSpeak. Qui dobbiamo andare in plugins. Ora se abbiamo fatto tutti i passaggi e abbiamo installato salti chat, qui dobbiamo avere salti chat infatti. E poi andiamo in setting. A questo punto qui andiamo a mettere la spunta e in log level andiamo a mettere extensive debug. E poi chiudiamo. Il suo passaggio vi servirà per evitare i crash. Dunque allora adesso dobbiamo andare invece in tools, vedete qua, poi andiamo in opzioni e andiamo sulla voce whisper, questa qua. E qui dovete andare a mettere il punto, il primo punto qui e andare a togliere questi perché così almeno non riceverete i whisper. E poi fare applic e ok. Dunque fatti tutti questi passaggi e adesso possiamo incominciare a utilizzare veramente il nostro programma. Quindi andiamo in connection, andiamo in connect e qui dobbiamo andare a mettere l'indirizzo del server che ci sarà fornito, eventualmente se c'è una password e il vostro nickname e poi fate connect. In questo caso io avevo un server vecchio quindi non è più attivo quindi qui non risulta nulla ma i passaggi sono questi. Poi andiamo su self, scendiamo su sound pack e dobbiamo scendere fino a trovare questo sound reactived e quindi mettiamo qui la spunta e mi raccomando le spunte si vedono qua. Dunque a questo punto siamo pronti per poter entrare su 5M. Una volta che saremo entrati in 5M vi sposterà poi nella stanza giusta per poter parlare. L'ultimo passaggio che dobbiamo fare è quello di andare in tools, opzioni e andare a controllare il nostro microfono. Mi raccomando qui andate a mettere il microfono che andate ad utilizzare. In questo caso io ho lo Yeti e potete utilizzare se volete il push to talk per parlare quindi qui sceglierete una lettera quindi un tasto della vostra tastiera da utilizzare per poter parlare. In questo caso io ho messo N ma potete mettere quello che volete e nel caso fate una prova di test per vedere se tutto funziona. E poi alla fine fate Appli, ok. Se ci fossero dei problemi magari per quanto riguarda TeamSpeak vi suggerisco di andare a vedere un altro video che ho fatto proprio sull'utilizzo di TeamSpeak. Se il tutto non vi dovesse funzionare allora dovete fare un ultimo passaggio perché magari non tutti lo avete. dovete andare su Self in Hotkey Profile e mettere la spunta su Default. Ora abbiamo fatto tutti i passaggi giusti per poter parlare tranquillamente attraverso il plugin di Salty Chat all'interno di 5M. Quindi se avete delle problematiche fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Mi raccomando mettete un bel mi piace a questo video se vi è stato utile. Ci vediamo alla prossima e se avete anche delle richieste vi ricordo di farle sempre qui sotto. Ciao a tutti! Grazie! 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 Grazie!